eccoci qua finalmente il nostro tour è finito dopo 2.700 chilometri e 20.000 metri di dislivello e in 16 giorni siamo arrivati a Lisbona siamo davanti alla torre di Belem adesso ci concediamo un meritato caffè andiamo a portare le bici da un negozio che ce le ritira e ce le spedisce in italia e domani mattina si prende l'aereo grazie mio compagno marco che mi ha sostenuto ci siamo sostenuti vicenda durante tutto il viaggio è andato tutto molto bene abbiamo preso un po di neve abbiamo fatto un po di pioggia neve per fortuna no però insomma adesso qua ci sono 24 gradi sta benissimo ci vediamo in italia grazie tutti quelli che ci hanno seguito arrivederci a presto ciao 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 ciao